Troviamo sulla strada provinciale 45 Maranzana Terzo d'Acqui e oggi abbiamo riaperto completamente al traffico questa provinciale dove per oltre un anno sono stati in corso i lavori per la costruzione di due ponti che risultavano non adeguati idraulicamente. L'importo dei lavori ammonta a 401.834 euro e sono stati eseguiti dalla ditta IVECOS di Colle Umberto. Allora oggi è 27 aprile sotto questo temporale stiamo inaugurando i due ponti nella strada Bogliona, grande opera della provincia di Asti. L'assessore Valle ha voluto presenziare questo evento che si tratta di un evento per il nostro paese importante per cui io come sindaco sono qua a ringraziarla e dire che questa è un'opera fondamentale per il rilancio di questa vallata e del territorio del turismo che dovrebbe partire su questo territorio. Le strade e la viabilità sono una cosa fondamentale, io direi principale. Grazie a tutti.